Siamo contenti, chiaramente c'è grande soddisfazione per questo risultato che abbiamo ottenuto e un'altra coppa e ci prepara per una mentalità vincente per la trasferta di Istanbul e adesso possiamo dire che ce la giochiamo, ce la giochiamo tutta e metteremo cuore per i ragazzi, ancora voglio ricordare questo successo, questa sera ho voluto dimostrare veramente quanto siamo forti, preparati infatti ho messo Corea e Gagliardini apposta per far vedere che nonostante queste due zavorre, nonostante tutto questo siamo riusciti a vincere ecco non hanno capito che ho messo questi due giocatori per i medi e trattori per dimostrare che l'Inter noi siamo riusciti a vincere nonostante avessi messo in campo questi due elementi più anche il raggio laser Andanovic ecco, praticamente abbiamo giocato con tre uomini in meno e ho dimostrato che l'Inter anche giocando 7 contro 11 può tenere testa l'avversario, a qualunque avversario spiazze per la Fiorentina